E' possibile arrivare al successo? Sì, chiunque può farlo, a condizione che rispetti tre passaggi fondamentali? Io te ne voglio parlare adesso, molto in sintesi. Primo passaggio, fa ciò che ami. Se vuoi raggiungere il successo, vederti bello sorridente, devi partire da qualcosa che fai volentieri e che da subito fai in modo sorridente. Perché se ti costringe a fare qualche cosa che ti hanno promesso altri, essere una professione prestigiosa ma a te non piace, troverai faticosissima la preparazione, andrai controvoglia all'università o andrai controvoglia a fare il tirocinio e sarai lì a roderti dentro in attesa di quel momento in cui finalmente potrai sorridere e rifarti di tutti i compromessi che hai sopportato. Non funziona. Con questo atteggiamento saresti estremamente introverso, egoista, non vedresti le buone occasioni e produrresti qualche cosa che non serve. E allora lascia perdere. Parti da ciò che ami fare. Secondo consiglio, impara a farlo molto molto bene. Fallo da professionista. Non basta che la cosa ti diverta e non andare nemmeno in giro a dire faccio questa cosa perché mi diverte, dovete apprezzarlo. Che ti diverta oppure no non interessa alle altre persone. Alle altre persone interessa che quello che tu fai sia utile per loro. Ecco perché devi diventare un professionista per poter presentare delle soluzioni che altre persone considerano importanti e quindi sono disposte a comprare da te. E qui arriviamo al terzo passaggio. Vendi ciò che sai fare bene da professionista. Vendilo, ricavaci i soldi, crea la tua carriera lì. Non ti stancherai mai perché parti da qualcosa che ami fare per cui ti piacerà imparare ogni giorno i vari nuovi modi per fare meglio ciò che già ti viene bene e di conseguenza sarai un professionista sempre più di valore. Il pubblico lo apprezzerà, la tua sincerità, la tua passione verranno notate e allora potrai vendere quello che fai. Segui questi tre passaggi e soltanto questi tre passaggi non metterci dentro altri ingredienti pensando di potenziare qualche passaggio che ti sembra un po' debole. Vai a fondo in ciascuno di questi tre passaggi e così anche tu potrai crearti un'ampia strada che ti porta al tipo di successo che tu meriti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!